Ciao a tutti ragazzi, qui è Overpro e oggi siamo aspettati un attimo Ecco fatto, se no Mia sorella ci spaventava e mi rompeva Vabbè, ciao a tutti ragazzi, qui è Overpro e oggi siamo in un nuovo Aggiornamento canale A distanza di Due settimane Abbiamo raggiunto un traguardo bellissimo, otto iscritti Appena ho editato il video Dei più di cinque iscritti E grazie ancora Siamo arrivati ad otto iscritti Grazie A dieci farò lo specialone Quindi state pronti Capito? State pronti Vabbè, le cose che vi volevo dire sono queste Io mi sono fatto male alla mano E mi sono fatto male alla mano perché sono andato al campetto Che volevo fare la challenge per lo speciale Che non ve lo dico Vi ho detto solo che è una challenge E mi sto mettendo questo coso Cioè sarebbe su questa mano Però io per più figo lo metto qui Capito? Basta Seconda cosa Hanno iniziato seriamente a darci i compiti Quindi è più difficile Editare un video Quarta cosa Quarta E terza cosa Mamma mia, non so contare Terza cosa Scusate se non ho portato più video Per Cioè Ma Capitemi Sono alle medie E compiti ogni giorno Non è molto bello Vabbè Questo aggiornamento canale È tutto Tutto Io direi che per questo video è tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Iscrivetevi Lasciate un commento E un mi piace E noi ci vediamo Ad un prossimo Video Ciao Ciao